I lavori nell'area PIP di località Mattine sono terminati, manca solo l'autorizzazione per costruire la rotatoria, che attualmente ci è stata negata, a dichiararlo ai nostri microfoni il primo cittadino Adamo Coppola che risponde al consigliere di minoranza Natalino Consolato Caccamo. Non è stata realizzata, non per qualche motivo di carattere tecnico-organizzativo che riguarda l'appalto, come sembra voler far passare, come al solito, ingenerando delle notizie non vere il consigliere Caccamo, ma soltanto, e abbiamo la documentazione che lo testimonia, sul fatto che l'ANAS, che allora era titolare dell'autorizzazione finale per poter fare la rotonda, da tempo ha più volte negato questa autorizzazione. Quindi non c'è nessun altro motivo se non quello di un'autorizzazione negata. Ora, in questo cambio di strade tra la provincia e l'ANAS, cambio di gestione, quella strada diventa di gestione provinciale, probabilmente un nuovo colloquio con la provincia ci aiuterà ad ottenerne l'autorizzazione e quindi finalmente il lavoro sarà completato. Quindi, né cose strane, come sembra voglia ogni volta cercare di costruire il consigliere Caccamo, ma soltanto una impossibilità di realizzare la rotonda perché c'era un parere negativo. Quando avremo superato questo parere negativo, completeremo il lavoro.